e mi piacerebbe tanto che tornasse qui sul palco Massimo Ciavarro ma sicuramente non vorrà tornare in ogni caso e così parliamo di quello che poi insomma prima ho avuto un filo e ho tanto sperato che Laura facesse perché insomma l'ho fatto con grande, l'abbiamo fatto con grande entusiasmo e stiamo lavorandoci veramente attivamente ma diciamo che non è esattamente la nostra materia dominante nella professione e adesso veniamo a parlare di quello, siamo qui per presentarvi la fine delle riprese del mio secondo film di regia scritto e diretto da me, prodotto per esempio e neristicamente da noi ma col contributo sostanziale anche se piccolo ma sempre generoso bene accolto, del Ministero dei Beni Culturali, sempre nell'ambito del programma Sensi Contemporanei dall'assessorato alla cultura della regione Sicilia col Ministero dello Sviluppo e poi altro ringraziamento che voglio fare a una persona che so che col cuore sarebbe qui perché veramente ed è Giulia Rodano, assessora alla cultura della regione Lazio che comunque come aveva promesso qualche anno fa qui all'atto della sua nomina ha poi concretizzato e realizzato questa possibilità per l'impresa cinematografica nel Lazio di avere dei contributi attraverso la finanziaria FILAS, è relativa alla piccola imprenditoria del Lazio, io credo che il cinema lo sia estremamente piccola imprenditoria e poi comunque non è esclusivamente romano perché oramai gran parte delle professionalità impiegate abitano nella regione, quindi grazie a Giulia Rodano e alla FILAS. E allora questo è il mio secondo film, io sei anni fatto, ho fatto un primo film scritto e diretto da me che forse ricordate, tra l'altro ho avuto la gioia di avere delle segnalazioni fra le quali quella portavo al nastro d'argento come candidatura per la migliore opera prima, era una riflessione molto accurata dal mio punto di vista sulla donna, io appartengo a una generazione che è una sorta di ponte e volevo mettere in scena, ricordare, visto attraverso gli occhi di una figlia, di una famiglia numerosa come erano quelle degli anni 60, con una madre tradizionale, madre e moglie tradizionale, che poi sta di fronte a un evento quale scoprire che il marito come spessissimo accadeva, aveva un'altra relazione o una vita parallela fra lo scegliere il silenzio e il mandare in aria tutto, manda in aria tutto, questo perché il mondo stava cambiando, con quella porta che lei ha sbattuto, oggi ci ritroviamo qui, che viviamo un mondo con una realtà femminile completamente ribaltata. Il film era raccontato attraverso gli occhi di una ragazza, di una bambina e figlia, perché io credo che come donna e come anche quando mi trovo a scrivere, comunque il mio mondo di sentimenti e di valori spesso prevale la mia ansia di indagare psicologicamente, di riflettere su quelle che sono anche le ordinarie cose della nostra quotidianità e quindi il mio rapporto con i figli e quindi forse anche questa mia storia personale che a 18 anni mi strappa dalla gioventù e mi proietta per caso e dopo tanti anni questa è diventata la mia unica vera famiglia, perché io non me lo ricordo più com'era la mia famiglia prima, mi proietta nel mondo del cinema per caso come forse adesso capiterà qualcuno dei miei protagonisti, non lo so, e quindi forse questi miei 18 anni mi sono rimasti per sempre dentro, mi sembrano, l'età fra i 10 e i 20 mi sembra quella più determinante, come per l'albore di una civiltà, cioè tutto si segna, penetra, è l'era delle prime volte, di quelle che comunque non si scordano mai. L'altra ragione del mio film è che in questo mondo ribaltato negli ultimi 30 anni, credo che se le mie nonne potessero fare una passeggiata oggi a Roma, non so, credo che vorrebbero tornare dove purtroppo sono, perché non potrebbero credere a quello che vedono. Avendo un figlio di 17 anni, essendo una madre molto presente nella sua vita, avendo un altro di 28, che mi ha traghettata sempre riportandomi nella gioventù, e poi questo piccolo ha preso il testimone, ho assistito non aspettandomelo all'interno del suo gruppo di amici, a una storia d'amore incredibile, fortissima, come non credevo potessero esistere più, io sono molto grande e mi guardo intorno e lamento davvero una mancanza di romanticismo, di eroismo, dell'amore, ma forse io sono grande, poi parlo con le mie amiche più piccole, quarantenni, non parliamo poi le trentenni, che sono delle donne realizzate in carriera, villantano anche grande soddisfazione e poi nel silenzio piangono perché non hanno l'amore, ecco, pare invece che questo primo grande amore esista ancora e di questo volevo parlare. Un primo grande amore è anche una storia fortemente di amicizia perché sicuramente dal mio primo film 30 anni fa, dove la claustrofobia è inerodibile della famiglia come unico sponda di affettività, di confronto e tutto questo è stata integralmente secondo me sostituita dal gruppo, non dal branco, ma dal gruppo, cioè osservo mio figlio, vedo che vive radicato dentro la chat dalla mattina alla sera quando non va a scuola e non esce da casa, con il computer portato in appresso ed è continuamente connesso con i suoi amici, per non parlare poi, voglio dire, del fatto del telefono, di questo continuo rapportarsi fra di loro. Noi abbiamo preparato, siccome il film è appena finito, abbiamo appena finito di girarlo e diciamo che è solo un premontaggio, abbiamo preparato un piccolo assemblaggio di scene che spero abbia un senso, io mi scuso perché è veramente appena uscito non da un laboratorio ma dal set, ci sono dei buchi di presa diretta, c'è un sonoro orribile, però insomma vuole essere un piccolo... e poi appena abbiamo visto questo promo vorrei presentarvi i miei meravigliosi... io mi sento un po' figlierti tutti loro, è stato meraviglioso lavorare con loro, è stata un'idea veramente grande per la mia vita, voglio dire, poi non so se il pubblico riuscirà ad apprezzarlo, mi auguro di sì, scrivere questa storia di diciottenni, perché mi ha permesso di passare mesi e mesi, non so, con la parte più innocente, anche se sono tutti maliziosi, perché l'uomo è malizioso, intendo di un po' nel senso, però più innocente della vita, ancora sono innocenti, ancora... e questo è stato meraviglioso, grazie. di molti grandi autori italiani, adesso lo so, quindi adesso visto che io sono single non ci lasceremo più, lui divorzierà e quindi ci sarà un seguito. Allora, Daniela, insieme a Roberto Farnesi, rappresenta il lato, come dire, adulto del film, il riferimento cui i nostri due... in realtà il film è un film corale, perché seguo la linea di ogni ragazzo, è un gruppo di cinque, qui si aggiungono tre, e poi il nucleo proprio della vicenda sono i due protagonisti, che vi presento, Gabriele Penteriani, dritto dritto dalla non maturità al Nazareno, perché non è stato ammesso, però non è colpa mia, Francesca Ferrazza, dritta dritta dalla maturità, conseguita come tipico delle ragazze, al disconti, quello vero, non quello dei sommari, dicono, e Daniela è la mamma di Laria, ragazza problematica, Francesca Ferrazza è stata, tutti e due sono due esordienti, sono stati... io ho cercato... volevo un film di autentici diciottenni, di solito noi nel cinema si usano 26 anni e funzionano come 18, i 18 le volte sembrano 14, io delle volte sono incantata dal fatto che hanno già, come dire, una seduttività, dico sullo schermo, che li vedo tutti i giorni mentre monto, però sono ancora piccoli, delle volte sembra 15 anni, quindi volevo dei diciottenni autentici, sono pochi quelli già affermati o, come dire, già professionisti, quindi ho fatto mesi e mesi di ricerche e alla fine ho scelto loro due per il ruolo di Paolo e di Laria, in particolare Francesca mi aveva molto colpita perché rispetto a tutte le ragazze che erano, che avevo incontrato, non saprei come dire, aveva una personalità assolutamente forte, già forte, a 18 anni, carismatica, lei è entrata, adesso te lo posso dire, io sono rimasta incantata a guardarla, come si muoveva, adesso rivelo un suo segreto, lei è piccolina, io pensavo altissima, questa è già una cosa suggestiva di una persona, perché voglio dire, io mi sono alzata per fare il video con lei e ho fatto, ma che faccia io già, non è che sono proprio, già mi piacerebbe avere quei 6-7 centimetri in più, però voglio dire, l'ho trovata un pochino e ho detto, ma ecco, una ragazza con una forte personalità e il nostro Gabriele nel ruolo di Paolo mi ha colpito invece per un'altra ragione, perché era così pacato, ponderato, che è una delle caratteristiche fondamentali del personaggio di Paolo, che apparentemente vive una situazione di grande difficoltà oggettiva, pratica, però in effetti è una specie di supporto per tutti, è un supporto per i suoi amici, è un supporto fondamentale che ho per suo padre, non voglio raccontare molto del film, padre che è interpretato da Roberto Farnesi, come avete potuto vedere, nell'insolito ruolo di un padre, fra l'altro in carcere, quindi, e non è presente, vi saluto a tutti, ma è sul set, impegnato nelle riprese proprio oggi, eh? Non è in carcere. Non è in carcere per l'appunto, per nostra fortuna, anche perché comunque... Grazie. Grazie.